Ciao a tutti, sono Carla e questo è il mio canale Ciao a tutti, sono Carla e questo è il mio canale Oggi voglio parlarvi di un sito che da quando ho conosciuto è diventato un'ossessione Allora, prima di sentire parlare di questo sito Ne conoscevo altri simili che però col passare del tempo mi hanno stufato per la poca professionalità Quando ho scoperto questo sito è stata un'illuminazione Perché è veramente uno dei siti più seri, affidabili di questo genere che io abbia mai conosciuto Sto parlando di Privat Grif, sicuramente ne avrete già sentito parlare O comunque l'avrete visto in televisione perché vedo spesso anche io le pubblicità È un sito in cui potete vendere e comprare Potete vendere tutti i vostri vestiti, le cose che non utilizzate più E potete comprare nuove cose magari interessanti che appunto trovate sul sito Oltretutto c'è anche l'applicazione che io ho sul telefono Perché puntualmente scopro qualcosa di nuovo e vedo qualcosa di nuovo da comprare Devo ancora creare un account per vendere le mie cousine Ma appena lo farò ve lo comunicherò così se vi può interessare Per chi è un amante della moda questo è un sito fantastico Perché insomma si può comprare ad un prezzo abbordabile Diciamo un prodotto che nei negozi costerebbe di più perché ovviamente è di seconda mano E ci si può liberare un po' dei propri prodotti Visto che magari con il tempo si sono accumulati e non li si utilizza più Si dà la possibilità di farli utilizzare a qualcun altro Così c'è anche uno scambio diciamo di prodotti nel nostro armadio Senza spendere una cifra esorbitante Per una borsa magari, non so ti dico, di Louis Vuitton Che magari in negozio costa 1400€ Su questo sito si riesce a trovare 700-800€ Certo di seconda mano ma come vedrete sono prodotti tutti tenuti molto bene Perché comunque sono sottoposti ad un controllo da quelli che gestiscono il sito Sono anche tutte le foto molto dettagliate Quindi riuscite a vedere lo stato del prodotto C'è la possibilità di scambiarsi messaggi con il venditore In modo da chiedergli qualche informazione in più se non è già descritta nella descrizione Vi do quindi due informazioni nel caso non conosceste proprio questo sito Iniziamo dal vendere insomma Se avete abiti, scarpe, accessori che non utilizzate più Potete magari evitare di lasciarli marcire diciamo nell'armadio E dare l'opportunità a qualcuno di comprarli e di utilizzarli sicuramente più di voi È veramente semplice, nulla di complicato Basta registrarsi al sito, creare il proprio profilo personale Fare le foto dei prodotti che volete vendere Caricarle online Scrivere una descrizione del prodotto con le varie caratteristiche Le varie informazioni da sapere nel momento dell'acquisto Decidere il prezzo e quindi scriverlo appunto di fianco alla foto In modo che tutti possano vedere a che cifra il vostro prodotto è venduto E basta Il bello di questo sito è proprio questo Il resto è tutto in mano agli operatori del sito Quindi per quanto riguarda la visibilità se ne occupano loro Per quanto riguarda il pagamento se ne occupano loro Per quanto riguarda la spedizione se ne occupano loro Apro parentesi La spedizione è una spedizione tramite corriere UPS Quindi sicurissima E non si ricorre in assolutamente nessun problema per quanto riguarda spedizione E' una parentesi che chiudo ma che è comunque importante Perché spesso per gli acquisti online questo è uno dei tasti più dolorosi diciamo Per le persone che acquistano online Quindi è giusto anche specificare questa cosa Per quanto riguarda l'acquisto invece è ancora più semplice Basta andare a curiosare sul sito come faccio io ogni giorno Cercare magari prodotti di marche anche molto prestigiose Che vi piacciono e acquistarle Bisogna sempre essere registrati al sito Ci sono proprio le categorie divise per marche volendo Quindi troviamo Louis Vuitton, Dior, Miu Miu, Hogan, Fendi Tutte queste marche molto prestigiose Di cui potremmo trovare scarpe, borse, accessori, vestiti Cos'altro? Tutto quello che vi può venire in mente Altra cosa importante Tutti i pezzi sono unici Perché non è un negozio ma sono privati che vendono i loro pezzi usati Questi prodotti sono tutti controllati comunque da esperti del sito appunto Che controllano lo stato e l'autenticità del prodotto Le transizioni sono sicure Le spedizioni sono molto veloci Perché appunto sono con corriere UPS E cosa molto importante C'è la possibilità di reso Quindi se il prodotto non è come pensavate Non mi piace Potete avere il reso Come vedete qui c'è anche l'applicazione Adesso vi avvicino così magari la vedete meglio Ecco qui l'applicazione di cui vi parlavo Andiamo ad aprirla Come vedete c'è la sezione vetrina Dove ci sono alcuni prodotti New in Le novità diciamo Saldi In cui ci sono appunto delle offerte E poi nel catalogo invece potete trovare quello che volete Per esempio Andiamo su ricerca prodotti Scriviamo Gucci Mi esce fuori Tutto il catalogo diciamo di Gucci Di tutti i privati che vendono prodotti di Gucci Ecco io già vedo questo bauletto piccolo di Gucci 200 euro E' bellissimo Avevo visto una cosa che mi piaceva molto Di Gucci Era un portachiavi Che voglio comprare Universo donna Categoria accessori Andiamo su per esempio Portachiavi E trovo tutti i portachiavi Eccolo qui Questo portachiavi qua di Gucci Mi piace tantissimo E costa solo 60 euro Contando con un portachiavi di Gucci Costa decisamente di più Ci sono varie foto Per controllare se il prodotto veramente vi piace La condizione comunque Del portachiavi Ecco questo è solo un esempio Questo è ciò che ho scopato io in questo periodo E ciò che piace a me Che adesso vedo se comprare Ma credo di sì Perché mi serve un portachiavi Comunque Trasciando Non c'è soltanto l'applicazione Ma c'è il sito internet proprio Che vi lascio qui sotto nell'info box ovviamente Perché se anche voi volete farci un salto Per vedere se c'è qualcosa che vi interessa Può essere veramente un ottimo modo Per scambiare prodotti Nel senso Metti in vendita qualcosa Che non utilizzi più E compri qualcosa Che invece hai voglia di utilizzare Perché non è ancora E magari desideri Ma preferisci comprare ad un prezzo Inferiore di rispetto Al prezzo che troveresti in negozio Ovviamente come ho già detto Sono prodotti usati Però insomma se sono tenuti bene A chi importa Io spero niente Di avervi fatto scoprire questo sito Che appunto anch'io Ho scoperto da poco Se lo conoscevate già Buon per voi Perché avete fatto magari affari Prima di me Io vi mando un grossissimo bacio Alla prossima Ciao